L'Urbe è in movimento. Già con Traiano, 98-117, è arrivato a Roma un archistar, l'architetto apolodoro di Damasco. Traiano gli commissiona, alle spalle del porto di Claudio, la costruzione del porto interno, un nuovo bacino artificiale a forma di esagono, allacciato al Tevere con un canale. Apolodoro ci mette 12 anni per completare l'opera, ma l'esagono è così ben fatto che si conserva ancora oggi. È un lago e si trova nella proprietà Sforza Cesarini, al chilometro 9 e 100 della via Portuense.